Assessore, allora da oggi fino a domani screening per gli studenti di Montesivano qui alle nostre spalle all'interno delle pala di Martin. Lei è venuta a fare un sopralluogo, insomma sta filando tutto per il verso giusto. Per fortuna sì, abbiamo scelto di fare come abbiamo fatto in precedenza le prenotazioni, con le prenotazioni ogni 15 minuti diciamo a gestire bene la situazione, tant'è che non c'è fila nonostante abbiamo fatto già un bel numero di tamponi. L'auspicio insomma, ne parlavamo anche con il sindaco De Martini, se nei giorni scorsi è che insomma ci sia una larga fetta di ragazzi che decidano con i genitori ovviamente di sottoporsi a questi controlli. Beh in effetti al momento abbiamo avuto prenotazioni per circa il 60% della popolazione studentesca di Montesivano, parliamo di scuole materne solo dai 5 anni in su, elementari, medie e superiori. Nonostante questo diciamo che siamo abbastanza contenti, considerando che molti già avevano scelto di farlo autonomamente, quindi tramite le farmacie. Lunedì riapriranno le scuole. Assessore, insomma qual è la situazione? C'è un po' di timore? Voi come amministrazione comunale, insomma avete accolto favorevolmente la decisione del governo di riaprire le scuole oppure secondo voi era ipotizzabile far slittare di qualche giorno la riapertura? Io penso che comunque abbiamo avuto i ragazzi che sono stati 15 giorni a casa, quindi abbiamo già avuto un periodo di allontanamento. Speriamo che le cose vadano bene, io immagino e penso che anche questo screening che la regione Abruzzo ha voluto porterà a un risultato. Da questo risultato poi potranno avversi una consapevolezza diversa e quindi si potranno fare delle valutazioni. E' chiaro che, come ha detto ieri il ministro Bianchi, la scuola in presenza è assolutamente importante. Questo non vuol dire che noi non siamo preoccupati, perché siamo assolutamente preoccupati, perché il numero dei casi purtroppo anche in età adolescenziale è aumentato, tant'è che stamattina abbiamo avuto già qualche positivo e tutti i positivi che abbiamo avuto più o meno sono quasi tutti i ragazzi delle scuole superiori. Grazie a tutti.